Grazie, grazie a tutti voi, grazie di essere qui con noi al Sunset Party Agenzia Lindiano numero 16 della stagione 2018. Passiamo ora a presentarvi tutto il nostro team che è composto da alcune persone e cominciamo con, adesso arriva Alice, e cominciamo con la piccola Alice. Alessandro, Roberto, Maura, Lisa, Elisa, Silvia, Magda, Vitalino, Clara, Luigi, Linda, Paola, Paolo, Stefano, Luca, e Alessia. Allora grazie ancora di essere qui con noi, vi ricordiamo che questa sera dopo il nostro party alle 11 e mezza in piazza Mare a Lindiano Pignetta ci saranno i fuochi a chi piacciono, ok? Adesso praticamente passo la parola ad alcune ragazze che mi mandano i saluti in lingua. Grazie di essere con noi, divertiamoci ancora, ciao! Ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!